Il Consiglio d'Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, tenutosi venerdì scorso, ha disposto la promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato del dottore Ugo Nicoletti. Il funzionario è entrato in polizia nel 1991, ha svolto servizio in qualità di dirigente del commissariato di Orgosolo, in provincia di Nuoro, del centro operativo autostradale di Lamezia Terme del commissariato di Rossano della sessione di Polizia Stradale di Crotone. Dal mese di dicembre 2023 svolge le funzioni di dirigente della divisione Polizia Amministrativa e Sociale, settore nevralgico nei settori di armi, passaporti, licenze e nel contempo sovrintende all'ufficio di gabinetto dove dal 2017 ha svolto le funzioni di dirigente. Al dottor Nicoletti sono giunte le congratulazioni del questore e di tutti i colleghi della Polizia di Stato della provincia di Crotone. Ugo Nicoletti, un dirigente che ha svolto il suo lavoro sempre con impegno e serietà. Noi ci associamo agli auguri per il suo nuovo incarico, anche perché negli anni scorsi ci ha dedicato uno spazio del suo tempo per interviste in cui si è sempre parlato dell'attività della questura di Crotone con l'intento di essere vicini ai cittadini, di ricordare l'importanza del valore della legalità in una società che ha bisogno di sentirsi tutelata e di poter contare sulle forze dell'ordine. Auguri, dottor Nicoletti, la sua storia è per tutti un punto di riferimento e proprio per ricordare il suo impegno aggiungiamo a questo servizio una breve parte di una sua intervista fatta negli anni scorsi. Nelle ultime due settimane circa 2000 persone sono state controllate, altrettanti veicoli, sono stati effettuati una diecina di controlli amministrativi di cui quattro sanzionati. Il controllo è doveroso, diciamo che non dobbiamo neanche, dobbiamo sottolineare che in realtà tutto sommato il controllo del territorio è ben fatto non solo da noi ma anche dalle altre forze dell'ordine che collaborano con noi.